L'obiettivo principale è creare attraverso questa tecnicalità un'accelerazione nel motore di spesa e dunque nel ritorno necessario per le opere che sono inserite nel CIS affinché il 2019 le recuperi come opere effettivamente realizzate. La piazza della visitazione che è una delle piazze più importanti di Matera è dentro questo programma di interventi, il parco della storia dell'uomo con una serie di declinazioni di interventi sulle cave è un altro pezzo di questo programma. La verità per cui sottolineiamo l'importanza di questa firma è che c'è stata sinergia, cooperazione tra livello regionale, comunale e nazionale e consapevolezza di un protagonismo che la città di Matera e la regione basicata vuole mettere in campo anche con funzione servente dell'intero paese. Matera 2019 è un capitale dell'intero paese Italia non soltanto della città di Matera e della regione basicata e questa firma sigilla esattamente questa priorità e questa impostazione.